La Italia-Francia non fa altro che certificare il fatto che la Meloni continua a non capire che per ottenere risultati in Europa deve seguire quello che ha fatto il Presidente Conte, che non è che andava d'accordo con tutti. Tutti hanno memoria di quello che è successo sul Covid con i paesi frugali. Deve avere la forza dei rapporti, dell'intelligenza e delle argomentazioni per portare risultati al nostro paese. Non interessano i suoi litigi, interessano i suoi risultati. Il Ministro degli Esteri ha addirittura annullato l'incontro che aveva con il Ministro degli Esteri francese. Secondo lei è un'aumentata tra i toni di scontro? Io non posso dire chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Io sto dicendo come si portano i risultati agli italiani. E non si portano in questa maniera. Non si portano rompendo i rapporti con le sinergie che servono a ottenere risultati. Quindi io contesto assolutamente il metodo della Meloni che dall'inizio del suo percorso europeo continua non solo a non ottenere risultati in Europa, ma anche a rompere quei rapporti che gli permetterebbero di averli.